Sul discorso priorità, è vero come lei ha detto, io non sono siciliano, ma la Sicilia la conosco molto bene e conosco molto bene anche la Calabria e penso che le priorità di quelle due terre non sia tanto il ponte, ma quanto strade più efficienti e più veloci, in questo momento è praticamente impossibile attraversare la Sicilia velocemente, ferrovie che siano efficienti e che abbiano gli stessi standard di quelli europei. Forse nel momento in cui avremo raggiunto quegli obiettivi si potrà parlare di ponte, facciamo il ponte che è avvenieristico e poi dalla Calabria e dalla Sicilia abbiamo strade e ferrovie che sono da terzo mondo.